Siamo all'acrea di sosta acqua di lago sul lago di Vintarone il difetto principale di quest'area di sosta come potete vedere è che non è per niente in piano quindi se pensate di venirci servono dei cunei e anche altri. Il resto è abbastanza tranquillo non c'è molta vista lago ci sono delle case in mezzo questa è la nostra chiocciola la c'è l'area dei servizi dove c'è carico scarico i lavandini le docce e i gabinetti e c'è anche il ristorante che fa anche l'aspolito perlomeno noi abbiamo chiesto ce l'hanno dato ci sono le prese di corrente anche lì cavo lungo che non sono molto vicine alla prossima questa è la spiegetta riservata all'area camper acqua di lago è anche carina c'è un pezzo di prato anche qua è una bella spiegetta isolata c'è una bella vista bella Il pesce è grosso, è tutto lì. E dopo una piccola passeggiata a lungo lago, quindi oggi una giornata tranquilla, finalmente siamo a farci un bel pranzetto, abbiamo preso un corregone da sport con le patate, giusto per assaggiarlo, assaggiare, perché è proprio un assaggino, e poi ci mangiamo qualche cos'altro, giusto per stare anche un po' leggeri, non abbiamo tanta fame, ci siamo alzati un po' tardi nel proprio riposato che ne avevamo bisogno. Buon appetito! Ieri è stato veramente un bel giro, quasi tutto in sterrato, in mezzo ai boschi, in descrizione troverete il link dove potrete scaricare la traccia GPX se volete rifare questo giro, che lo consiglio, è stato molto divertente, l'unico problema sono stati degli alberi che sono stati caduti da scavalcare, ci va comunque un minimo di padronanza della mountain bike, perché il percorso è un po' in certi punti molto dissestato, con pietre, rami, c'è anche un tratto di single track. Però se l'ho fatto io ragazzi, tranquilli, proprio bello. E delle salite piuttosto ripide, quindi se non avete la mountain bike assistita ci va una buona gamba, oppure ve le farete a spinta. Però merita veramente, proprio devi attenti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.